abbiamo iniziato ciao monica ciao elena ciao sessione particolare una coppia mara e luca 5 4 3 2 1 andamai chiamiamola la coppia si arriva la coppia sono arrivati loro e sono arrivati loro mano nella mano e stanno camminando verso questo gruppo di persone che sono davanti a loro messi a semicerchio che poi non tutti bianchi e sono diciamo tutti i loro famigliari e anche ex messi proprio a cerchio hanno dei manganelli in mano e fanno così è proprio questa cosa mi è arrivata netta come adesso vi picchiamo se non se rimanete così dobbiamo scontrarci no ed è proprio questo la loro unione con la mano è proprio questa sfida c'è le loro ps hanno voluto farli incontrare proprio perché devono superare questa questa esperienza insieme monica credo che la lettura sia molto simile anche se l'immagine è diversa perché mi fa vedere due anelli agganciati quindi sono proprio completamente uniti e in questo modo solo che mi fa vedere come una specie di la raggio laser che dall'esterno vorrebbe provare a spezzare più che altro vedo in questo momento il raggio laser è puntato sulla fede di lei l'anello che rappresenta lei se per provare a spezzare questo loro legame ok voi non sapete come sono messi adesso loro io lo vedo lo voi no perché ci sono posizionati in un modo state così molto particolare non lo so a me vengono vite precedenti elena si sono già incontrati in vite precedenti che la postura il modo in cui si sono messi adesso suggerisce e non so come sono messi ora ma è come se li vedessi uno davanti all'altro ed è come se ci fosse una freccia che li unisce che viene da davanti o da dietro dietro ma loro sono paralleli o si guardano le spalle e da dietro chi è c'è dietro prima lui o lei qui ma quale perfetto quindi prende lui e prende lei ma gli uccide insieme una freccia di cupido però che arriva alle spalle cese quindi traditrice se quindi sono stati si sono già conosciuti ma le condizioni non erano giuste se vogliamo si immagini simbolica si è esatto se monica molto sinceramente cosa vedi è molto sinceramente tipo due fratelli fratello e sorella innamorati ecco perché la faccia traditrice monica fiamme allora per come la vedo io in questo momento mi fanno vedere proprio questo rapidissimo passaggio dal 4 che è stato il loro numero mi hanno fatto vedere i gemelle sì esatto sì ma rapidissimo proprio è come se loro prima ancora di incontrarsi fisicamente avessero iniziato a fare questo percorso qui nel senso che hanno avuto due cammini in un certo senso paralleli analoghi per certi punti di vista no quindi loro nel momento in cui ancora non si conoscevano erano anime affini di quarto livello poi anime affini di quinto livello quando loro si sono incontrati erano fiamme al bar sì al bar sì 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 ho visto anche questa cosa adesso che sono fiamme chiaro è proprio chiaro c'è proprio l'unione proprio sì proprio la fusione ma in effetti è come se avessero lavorato la distanza per arrivare poi a essere fiamme quando si sarebbero incontrati il livello di fiamme è arrivato tra due e tre non so che tra due e tre perché c'è anche un colore tipo il 2 blu e i tre verde quindi sono nella via di mezzo mi è venuto questo questa cosa qua c'è un colore abbinato mara ride ci sarà il blu verde che l'insegue e monica sì li vedo più sul verde probabilmente in questa transizione no quindi stanno andando verso il verde allora vedo di più il verde va bene il progetto della coppia nome monica fuochi e fiamme sfera vorticosa è come se la loro unione iniziassero a girare vorticosamente e creassero questa sfera di spinta di tutte le interferenze lontano da loro proprio come se ci fosse questa sfera che spinge tutto lontano allora adesso abbiamo delle frequenti dei valori per due persone da due persone che siete voi quindi che so iniziamo con elena giusto che stava parlando iniziamo prima mara e poi luca vibra sempre a 25 18 monica sempre a 25 mi è venuto però invece di lui se che mi è venuto 38 perché perché più alto di lei questo è un dato adesso sì io registro al momento presente ti sto dicendo la dimentico questa domanda la faccio adesso ma io non so perché lo vedo lui e vedo un cavaliere cioè ha assunto una postura che mi ispira il cavaliere e lei sembra la dama allora quando ho detto così l'immagine che mi è arrivata è una vita dove si sono conosciuti dopo allora lui era già lui di grande onore se allora stavano c'era questa battaglia in questa corte e lei era una donna che abitava nella corte stava per essere uccisa durante la battaglia lui è passato a cavallo e la tirata su di di peso e sono andati via queste immagini mi è arrivata bonica ci sono secondo me diverse vite in cui lui ha combattuto adesso in questa vita attuale anche sta combattendo in un'altra maniera però sempre in questa veste qui di cavaliere in un certo senso che porta giustizia ma anche in poi in mezzo al sangue ok consapevolezza vai monica di mara e poi di luca 170 più o meno lei lui è giù di lì diviene 163 insieme a di mara è venuto un po di più 189 lui 165 ps monica mara 46 di lui mi viene 53 45 e 39 vite allora lei 1214 e lui 1896 1.000 lei 1220 circa né lui 1807 cervello monica e adesso lei vedo dieci e mezzo lui 9 sì l'è minuto 11 e lui 9.8 va bene causa esoterica elena del 4 mi ha fatto vedere due immagini allora una è come se loro potessero sedersi allora mi è fatto vedere il 4 visto da davanti quindi come se fosse una sedia no è una persona seduta con le gambe giù quindi come se potessero sedersi a a prendere la loro unione mi viene da dire no quindi accomodarsi nella loro unione ma dall'altra parte mi fa anche vedere che è come se questo fosse il manico della spada e la spada è stata spezzata in due e quindi loro devono riuscire a combattere senza armi mi viene da dire il 4 con una spada spezzata monica allora 4 è il numero di ciascuno no se ci pensi mara luca tutte e due quattro lettere mi fa vedere i due quattro quindi un 4 è mara l'altro 4 è luca ribaltati quindi tu immaginati no e uniti se i quattro li ribalti sembra quasi un albero ma sembra anche una freccia allo stesso tempo ok quindi mi fa vedere questo doppio aspetto della loro unione da un lato potrebbe essere l'albero che è assolutamente vita solidità e tutto il resto però dall'altro mi fa vedere questa freccia che è proprio combattimento quindi la trattino verticale del 4 è in comune in questo senso sì se tu disegni il 4 con la parte alta un po' inclinata hai presente? il 4 lo disegni un po' così inclinato 4 così li metti uno davanti all'altro ok diventano un albero una freccia ah ok ok entità eteriche di mara monica io lo vedo un topo del secondo universo un uovo del tempo il topo io l'ho visto come una talpa che scava scava per fare per cercare di farsi che mara stia sempre più giù e poi debba cercare il modo di tornare in superficie no? si è poi un uovo del tempo c'è si allora lo vedo un uovo del tempo ma non che la interferisce sempre e se è lì che controlla la situazione e riesce a interferirla quando mara ha a che fare con il suo ex e con sua mamma entità mentali sempre monica sempre di mara ma sono due ma piccole allora una me la dà come influenze influencer insomma me la chiamo in tutti e due i modi e l'altra mi dà coniare monete perché nel caso appunto di influenze influencer è come se questa entità mentale la facesse essere ancora sotto determinate influenze esterne che prevalentemente è quella della madre però in un certo senso è anche delle influenze che sono tipo non so anche sensi di colpa piuttosto che paura del giudizio degli altri quindi in questo senso un'entità mentale che la tiene imbrigliata così a questo vario genere di influenze livello tra il due e il tre e l'altra coniare monete come se lei mi fa vedere quasi un fumetto a sogno che desidererebbe tanto coniare le monete produrre lei le monete per potersi liberare da tutta questa situazione come se questa entità mentale le facesse credere che di fatto tutta la soluzione della questione è basata sul avere dei soldi che le garantiranno la libertà lo svincolamento eccetera eccetera livello? dopo due Elena mentali sì me ne è apparsa una che praticamente riacchiude quelle due e si chiama agiatezza versus fatica agiatezza nel senso che in questo momento l'entità mentale le fa credere che se sta in questa situazione è tutto più semplice e se invece cambia la situazione farà molta fatica diciamo che l'aggancio è questa cosa farle credere che di là è tutto faticoso se si sgancia dalla casa in cui era prima e dalla mamma diventa tutto faticoso quindi è un po' diciamo riassunto delle altre due di quelle che ha visto Monica livello è quello Elena Luca vediamo le interferenze eteriche allora c'è questo drago che però si camuffa da Luca cioè quindi mi appare questo drago che è azzurro con delle ali trasparenti che se io lo guardo cioè io lo guardo da dietro so che davanti appare come faccia di drago ma se lo guardo da davanti si camuffa con la faccia da Luca poi c'è sembrerebbe proprio tipo Nettuno seduto su un trono poi c'è un leone poi c'è una pantera ma è bianca completamente bianca Monica sì io vedo anche una mantide perché è proprio come se ci fosse un po' questo elemento femminile no? sia nella pantera che nella mantide peraltro le mantidi bianche unisco pantera e mantide di tutte e due sono le più potenti sono le più ammagliatrici sono quelle alte di grado nelle mantidi basta? Monica? se ci sono due DL allora adesso iniziamo da Monica Monica entità mentali di Luca bravo ragazzo facchino che poi sono un po' delle sfumature di aspetti molto simili perché bravo ragazzo mi dà anche una sorta di componente di da un lato ingenuità dall'altro come un comportati da bravo ragazzo non andare a scontentare gli altri e facchino mi dà mettiti al servizio degli altri sopporta tutto anche le situazioni più estreme perché mi fa vedere il facchino che si mette addosso dei pesi incredibili tante valigie se ne fa carico completamente lui quasi che viene schiacciato da questi pesi quasi che a un certo punto sta quasi strisciando pur di portare queste valigie perché il suo compito è quello che livelli allora bravo ragazzo direi fra il 2 e il 3 e il facchino anche 4 anche se adesso vabbè un po' meno però mediamente 4 Elena sì ne vedo 2 anch'io allora una mi dice trottola e l'altro è è più un'immagine io la traduco come riparatore di muri e mi fa vedere questa casa quadrata multipiano con i mattoni rossi dove lui continua con questa spatola a risistemare il cemento tra i mattoni che continua a venire via quindi la prima trottola equivale a quella che Monica sì perché proprio però rispetto soprattutto ai figli quindi è proprio un continuo voi dovreste vedere loro due adesso vedete l'immagine immagino se purtroppo ovviamente comprensibile vabbè si stanno guardando l'indacchiano ma tutte e due e riparatore di muri è proprio come se se lui non mettesse a posto tutte le volte il cemento dei mattoni crollerebbe tutto e quindi l'entità mentale gli fa credere questo quindi deve sempre continuare a rimettere il cemento a posto per tenere sulla baracca va bene come impianti chi vedete che ne ha di più chi e chi non ne ha chi ne ha di meno ma è arrivata questa cosa mentre dicevi impianti ho guardato prima uno e l'altro è come se gli avessero messo lo stesso impianto che è una via di mezzo tra quella freccia di cupido e la spada che parte dalla testa e arriva fino alla fine della colonna a tutte e due a Luca più spessa e a Mara o più fine ma è lo stesso impianto Monica sì che io vedo come una lunga freccia tipo però è lo stesso basta uno solo io a lui vedo anche i genitali è amara no solo uno c'è no perché i genitali credo che ci siano stati dei ricatti diciamo così sia riguardo alla riproduzione quindi è il frutto della riproduzione ricatto sui figli e penso anche dei ricatti non so basati comunque sai sull'erotismo sulla sessualità sulla femminilità giocata in una certa maniera va bene cinema tre più due figli cinque figli tre lei due lui si stringono la mano dicono piacere si scambiano i nomi tra di loro vengono tutti e cinque tutti e cinque si lei fa vedere tipo due più uno mi dice non so se per lei questo ha un senso due più uno e quel più uno socializza un po' meno però fondamentalmente sono tutti lì in questa fase così di inizio conoscenza ok come visualizzate la coppia fiamma questo sarà il titolo coppia fiamma come la vedete a me appare con li vedo di fronte ok che mi guardano quindi luca di qua e mara di qua il braccio quindi braccio sinistro di luca che si intreccia come se facesse tutto un intreccio così col braccio destro di mara come se cioè continuasse intrecciarsi proprio come se fossero molto flessibili e poi sono ricoperti da un potrei dire aura un velo energetico che crea una figura unica che li circonda ecco questa è l'immagine che mi appare molica mi danno questa immagine che si trasforma in continuazione dove dal cuore rosso me lo ribaltano me lo fanno diventare un picche nero poi ritorna il cuore rosso poi diventa un picche nero e così in continuazione però vedo che dura di più la fase del cuore rosso più per esempio io parlo e meno diventa frequente e duratura il picche nero però mi fa vedere questo ribaltamento però un cuore più picche è una sorta di toroid è vero già alla fine va bene lo trasformiamo in un logo toroid e come nei canali televisivi che in alto a destra in basso a destra in basso a sinistra c'è il logo della televisione nel cinema adesso c'è questo logo stanno guardando i cinque ragazzi il canale coppia fiamma e non si può prescindere da questo quindi se la mamma non è più con il papà e se il papà non è più con la mamma qui siamo in canale coppia fiamma quindi non capita spesso di avere il papà che ha trovato la fiamma e la mamma che ha trovato la fiamma e siccome questi io sto parlando queste cinque ps e queste cinque ps sono qui per imparare non per fare il mulino bianco non per avere l'ultimo telefonino non per avere i capelli all'ultima moda ma per imparare questa è un'ottima occasione che loro hanno scelto in cui mettersi e da cui imparare il più uno di Mara che fa Monica? posso chiederti una cosa perché adesso ho il dubbio il luogo delle olimpiadi è fatto da cinque cerchi? sì ecco perché praticamente mi ha fatto vedere i tre più due e c'era un infatti che commentava questo spettacolo è meglio delle olimpiadi però mi ha fatto vedere come il toroide è rappresentato da questo tipo marchio delle olimpiadi dove loro sono i cinque cerchi e c'è questa specie di però ancora un po' gara competizione ok credo che sia nei cinque continenti può essere sì forse che poi si sono diventati sette sono saputi i continenti che succede al più uno che fa innanzitutto si devono mettere tutti gli occhiali da sole perché è troppo abbagliante l'energia da guardare così hanno bisogno di occhiali che filtrino con la possibilità c'è una possibilità con dei genitori così hanno una possibilità in più di incontrare la propria fiamma i cinque nel corso della propria vita rispetto a un ragazzo che non si trova in questa situazione una femmina mi dice sì io mi sento che la incontro di lui o di lei è la femmina più grande di questo gruppo ce n'è qualcuno un po' vicino ai flirt queste cose diciamo noi primi incontri 15-16 anni sì 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 che dice sì io cioè come se sentisse proprio che la cosa che a lei accadrà ecco ma grazie alla situazione in cui si trova esatto favorita da tutto sì sì è come se vedessero un esempio diverso dal solito e quindi hanno quell'esempio davanti che sono più facilitati a seguirlo vabbè chiamiamola ex moglie e l'ex compagno l'ex moglie viene tipo mille facce non saprei neanche da dove guardarla perché a seconda di dove la guardo ha un aspetto proprio completamente diverso non sembra neanche la stessa donna se la guardo fianco destro fianco sinistro di dietro davanti è come quando entri in quei labirinti con mille specchi dove non cresce niente un kaleidoscopio di viso ma viene sì però tutto anche con questa roba un po' di confusione di inganno di ammaliamento di non chiarezza tipo che per un attimo è la più crudela del mondo poi dopo sei una samaritana mille giochi ecco però viene se c'è qualcosa e il compagno Monica allora lo sento abbastanza distante da tutto questo modo di vedere la vita è come se sentisse molto da lontano questo richiamo no? come se lui sentisse le nostre voci molto molto basse ma lo stesso sì Elena cosa raggiunge? sì allora stanno li vedo entrare assieme e mentre entrano l'ex moglie inizia a dare pugni all'ex compagno di lei ma perché lei ha questo atteggiamento con tutti nella vita la rabbia e la rabbia con cui si deve difendere dagli altri mi fa vedere quindi poi lui la scantona via e entrano e si siedono uno da una parte uno dall'altra in fondo va bene causa esoterica Elena del non trovare casa di Mara al di là di questioni logistiche fisiche materiche materiali diciamo che c'è sì sono proprio le interferenze che sono tornate sono proprio quelle che fanno sì che lei rimanga in questa situazione statica redendogliela alla visione alla vista molto molto complicata senza soluzione ok la sua ps le vuole far proprio passare l'esperienza che con tutte queste apparenti difficoltà che lei è in grado di superare tranquillamente quando arriverà a sciogliersi tutta la situazione lei avrà fatto una grossa esperienza che le darà un vantaggio evolutivo molto ampio quindi proprio è come se ti apparissero questi enormi mi fa vedere in eterico no? lei che che vuole andare verso verso la vita insieme a Luca ok ma ci sono questi enormi palazzi davanti neri che lei dovrebbe riuscire ad abbattere ma risultano quasi come se fossero di un metallo indistruttibile ecco Monica sì le sue entità mentali proprio incarnano questo quindi una difficoltà che lei vede come materiale è una difficoltà che lei lega molto agli influssi diciamo così dei pareri e dei giudizi esterni degli umori esterni delle emozioni esterne quindi la mamma è ancora molto legata a me in qualche modo dipende da me in qualche modo mi blocca eccetera no? quindi quindi influssi materiali più influssi diciamo così emotivi vanno a creare in lei questo blocco del trovarle casa però effettivamente sono tra virgolette dei pretesti perché lei ha assolutamente la possibilità di trovare casa ma da sola o con lui? Io credo che ci sia la possibilità di una conciliazione sì solo che in effetti dovrebbero prima iniziare un tipo di unione nel senso di iniziare a far conoscere un po' meglio frequentare i loro figli Elena sì è come se fosse dall'altra parte uguale Luca che come se con le sue entità facessero in modo che lui si è impegnato a sistemare tutti i mattoncini e a girare come una trottola per i figli distogliendolo dal vero obiettivo ok che è l'unione con Mara per assurdo è come se ci fossero ai lati da una parte di Mara e dalla parte di Luca come se ci fossero due tempeste ok che loro cercano di placare separatamente ma che se si unissero le due tempeste sparirebbero e ci sarebbe proprio tutta la calma come vedete il toroide come vedete il toroide adesso allora mi fanno vedere che è come se ogni passaggio dell'energia dal toroide ok cambiasse colore e ogni volta che cambia colore vibra con qualcuno intorno a loro quindi come se mandassero tutte le volte i messaggi della loro unione della loro forza a ogni persona diversa ogni volta che l'energia fa un giro Monica mi pare quasi come se fosse una specie di salvagente e vedo che proprio si aggrappano questo salvagente per non naufragare in questa tempesta come se già in un certo senso tutti quanti avessero capito il messaggio profondo cioè che comunque l'amore l'unione è la soluzione però è ancora ovviamente una comprensione a livello eterico no però io vedo che già quasi in ognuno di loro c'è già questo seme causa esoterica dei problemi di salute di Luca Monica soprattutto la stanchezza facchino vedi tu cioè lui che si porta qualunque peso gli dai ma può essere anche cento volte superiore al proprio peso e lui lo accetta e lo porta anche per questo che ha avuto questi problemi alla gamba perché continua a portare pesi oggi e domani ovviamente il tuo corpo è complessivamente indebolito no quindi quasi la fatica nel camminare nel procedere si prende carico in maniera anche troppo accorata ed eccessiva di qualunque cosa e lui chiede il meno possibile faccio tutto io la spreco io non vi preoccupate ci sono io sono io il bravo ragazzo l'uomo forte che ce la fa Elena sì sì è proprio questo prendersi carico di girare come una trottola che questa è la stanchezza e anche un po' la stanchezza del uno stufo adesso basta è come se fosse un'antitesi tra la sua convinzione di dover far tutto lui ok che è mentale proprio la risoluzione è data da questo atteggiamento un po' mentale no di faccio tutto io e invece il suo cuore che dice adesso basta devo pensare a me ok sento profondamente che così non ce la faccio voglio pensare a me ok quindi c'è un po' questa dicotomia che forse aumenta anche la stanchezza ok allora io direi questo vi dico cosa pensa il medium lucio che qua stiamo a parlare del fregnacce alla fine che il lavoro è stato già fatto che questi due si sono incontrati però mentre voi non vedete no c'è un po' lei che guarda lui dicete l'avevo detto soprattutto sulla questione facchino allora facciamo un bel gioco l'abbiamo davanti due gusci no fatelo anche voi adesso insieme due gusci che non servono a niente alla fine se non fare un gioco e due anime le due anime sono fiamme adesso per i prossimi solo due minuti l'anima di Mara va nel corpo di Luca e l'anima di Luca va nel corpo di Mara e vi dite cosa vedete allora quando l'anima di Mara è andata nel corpo di Luca è come se se avesse dovuto fare tutti i collegamenti con tutta la rete nervosa neurale di Luca sai come quando nei film si vedono gli astronauti che stanno per partire che vengono partono tutte le cinture tutte le chiusure no ecco un collegamento di tutte le la rete neurale all'anima di Mara del corpo di Luca e l'anima di Mara e quando è entrata invece l'anima di Luca nel corpo di Mara c'è stata invece una come se venisse ricoperta da un'altra sfera che è che è data dall'essenza del corpo di Mara Monica lì è entrata in comunicazione in maniera forse più più femminile più da quel dal ricordo del corpo di Mara c'è il ricordo del corpo di Mara che ha dell'anima di Mara quindi questo avvolgere accogliere in maniera femminile di lei invece più dinamico Monica allora ho visto che lui nel momento in cui accoglieva l'anima di Mara era come se sentisse finalmente l'anima femminile giusta nel senso che lui in qualche modo aveva già provato in precedenza perché penso che sia proprio un suo desiderio quello della fusione solo che non c'era mai riuscito era solo un desiderio e ora che l'anima di Mara è entrata dentro di lui è come se l'avesse sentito perfettamente compiuto la cosa buona e giusta perfetta è al posto giusto di lei invece l'esperienza di lei è come se non lo so per quale ragione mi parla del padre come se fosse andata a colmare delle cose del padre e quindi in questo modo lei che si sente non so come dirti più completa più donna più forte in entrante le esperienze è come se loro fossero migliorati come se fossero più forti più maturi hanno anche magari compreso meglio i vissuti reciproci sì quindi non so per dire lei magari accusa lui accusa no accusa lui di questo di questo di quell'altro e lui accusa lei di questo di questo di quell'altro ma ci sono anche delle condizioni non ci sono delle colpe non ci sono degli eroi ci sono degli adattamenti a quello che poi alla fine è un gioco che ha una valenza è un'importanza decisamente relativa è come se fossero più obiettivi no non essendo essendo estranei diciamo al al solito meccanismo riescono a comprendere le cose in maniera più obiettiva senza farsi prendere dalla parte emotiva e di paura Monica direi più comprensivi cioè non separano più le cose questo è mio questo è tuo questa è la tua colpa questa è la mia eccetera eccetera ma è come se riuscissero a mettere in unione insieme il tutto e a riconoscere che alcune sono veramente delle inezie e riconoscere proprio il valore dell'unione a specchiarsi l'uno nell'altro nell'altra bene portale aureo padre di lui il portale aureo lo aprono il padre e il fratello di lei che son già dentro non lo apriamo noi massima collaborazione oggi tra tutti non so il padre di lui è come se essere il cuore in frantumi mi viene perché mi sento proprio il cuore tagliato a metà spezzato ha un senso anche di rammarico di come lo vedi Monica questa apertura da parte di due disincarnati che erano già dentro di Mara e l'arrivo appunto del papà di lui il portale aureo possa avere due porte scorrevoli e quindi c'è il fratello di Mara che apre una delle due porte e il padre di Mara apre l'altra porta e quindi nel complesso creano proprio questa apertura che è quasi maggiore rispetto a quella del portale aureo cioè vedo che lavorano proprio in sincrono e padre di lui di Luca arriva hai detto affaticato fra frantumato nel cuore sì io lo vedo molto come posso descriverlo come se fosse solo ossa ma non si vedono le ossa ma come se fosse il corpo ma completamente asciugato completamente si è asciugato direi proprio come ricada l'ericato si è risucchiato di tutto quasi come se si sforzasse ora di prestare attenzione a Luca senza energie ma è come se lui sapesse che questa è l'ultima occasione per poter prestare attenzione a Luca quello che non è mai riuscito a fare in vita perché era prosciugato da tutto il resto messaggio del padre di Luca Luca Elena finalmente ti vedo nella tua nel tuo grande entusiasmo nel cercare la serenità e il divertimento in questa vita vedo la tua positività che è quello che io non sono mai riuscito ad avere Monica aiutami ad unire questo cuore che adesso è frantumato con l'amore che tu sai provare beh allora Luca offra una Vic al padre liberazione informazione consapevolezza Vic è tutto lì quando tu hai detto è tutto lì lui ha risposto l'amore è tutto e vedo proprio questa energia d'amore che si irradia verso Luca verso i figli di Luca però vedo che prova anche a emanarla verso la ex moglie di Luca anche se è come se lei si parasse no? proprio scopre il volto con le perate questo amore e vedo anche lo stesso amore che si propaga verso Mara e verso i figli di Mara il compagno di Mara verso l'ex compagno Elena sì allora quando Luca da la Vic sopra e sopra la prende da da prosciugato che era inizia di nuovo questo vortice che diventa come se fosse un filo tipo il nastro della ginnastica ritmica viola ok che va in spirale poi che si alza in alto e poi diventa l'essenza del papà di Luca il cuore è spezzato si è riunito Monica sì 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 e adesso chi vuole delle due cosa dice il padre al figlio finalmente sento la leggerezza finalmente posso godermi la leggerezza non c'è che amore in me vuole lasciare un altro messaggio a chiunque io non so se Luca fratelli, sorelle, la mamma, cioè la moglie di questo uomo è viva? sì la mamma sì la moglie fatti forza dice perché effettivamente è come se lei avesse perso molta energia no? cioè la stanchezza che accusa Luca la vedo tanto 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 di più in lei è come se lui le volesse dire reagisci no? fatti forza fatti forza lo dice in maniera però molto dolce molto amorevole Elena sì lo vedo che comunica tutta la famiglia di Luca dicendo prendete le cose con più leggerezza con meno preoccupazione e meno peso perché alla fine è un gioco ed è solo un'esperienza è solo sì sono solo delle degli inganni che ci vogliono tenere giù prendete tutto con più leggerezza e allora uno è un bambino un pochino più piccolo forse il più piccolo di tutti no? perché il padre appunto di Luca dice guarda qui che cos'è la vita e questo bambino vedo che soffia le bolle no? le bolle sono leggere volano e poi scoppiano lo salutiamo e i due guardiani improvvisati del portale lo richiudono richiudono dall'interno come stanno cosa fanno cosa dicono è come se volessero trasmettere tanta gioia perché all'interno del portale aureo è come se ci fosse proprio una carica continua di gioia di entusiasmo di leggerezza e vedo proprio che è come se la volessero far passare attraverso questo portale aureo chiusa bene la coppia fiamma va adesso nel suo cluster non so perché lei ci va vestita da sposa credo che lei appunto non si sia sposata giusto lei va vestita da sposa però io vedo proprio che è come se il loro cluster che è di tutte e due che è diverso dal cluster di Luca e dal cluster di Amara ok come se fosse a un certo punto quando loro arrivano si vedono diciamo i contratti di mare i contratti di Luca che rappresentano diciamo le loro vite in questo momento ok che è come se si fondessero e formano una farfalla metà rosa metà azzurra quindi nel loro cluster i loro contratti uniti formano una farfalla enorme sulla parete che è da una parte rosa e da una parte azzurra e che fanno stanno aprendo portale definitivo allora Mara prende la mano di Luca e insieme disegnano il portale definitivo e la farfalla vola dentro Monica mi aveva fatto vedere separatamente i due cluster come se fossero molto simili però perché mi fa vedere due grattacieli con intorno tutto un brulicare caotico di auto e riesco a vedere loro due rendendosi per mano quindi due mani sono occupate perché si tengono le mani le altre due mani le utilizzano per avvicinare i grattacieli e le auto tutte fra di loro creando un grande unico mucchio e questo mucchio lo buttano dentro il portale definitivo e cosa creano qui nel loro cluster di coppia questo è proprio un ad eterno un toroide sai perfetto ed è come sai che cosa quando ricami a mano che c'è sotto magari un filo che percorre il toroide tutto su rosa poi sopra un ricamo azzurro quindi però continui a intravedere il rosa che c'è sotto alla fine ecco questo movimento spiraliforme di rosa e di azzurro che si alternano che si intrecciano quindi l'archetipo del maschio e della femmina di lui e di lei del su e del giù della dualità è un gioco c'è esiste un avatar di lei ci sono uno spicchietto di lui allora c'è quello che ho visto subito quando c'è esiste l'avatar di lei allora la sagoma con questo spicchietto che si è riformato poi come se si fosse girato e di fronte c'era l'avatar c'è l'avatar di Luca ok è come se si fossero uniti anche loro per mano e insieme in questo momento hanno fatto sparire tutti e due gli avatar unendoli sono li hanno buttati già via Monica l'avatar di lei mi dava tipo un naso di Minnie non so perché e l'avatar di lui invece mi dava una valigia stracolma pesante vecchia no e anche qui hanno voluto liberarlo insieme come se lei avesse la volontà insieme a lui di tirare su questa valigia e nel momento in cui pensano di dover fare una grande fatica per eliminare questa si rendono conto della finta pesantezza di questa valigia e infatti non ci vuole niente per loro due insieme a buttare la valigia dentro il portale definitivo ma perché perché vuota perché sì perché in realtà inconsistente cioè non c'erano tutti sti problemi dentro no o se c'erano non hanno peso esatto sono molto relativi ci vogliono giocare un po con sta valigia prima di buttarla se la vogliono tirare sì sembra quasi che giochi ne a volano se sono uniti quasi di racchette no e questa può essere proprio la palla del volano che alla fine che pesano si divertano la usino come tappeto di aladino la moltiplicano ci fanno una casetta per bambini le quattro pareti e due tetto poi le fanno diventare piccole queste valigie e se le tirano perché sono piene d'acqua come dei palloncini pieni d'acqua a questo livello possiamo ti ho sentito anche io non ti sentivamo più che è successo a questo livello stavo dicendo possiamo usare un'interferenza un aggeggio dell'avatar perché non mi avete sentito questa coppia è super strapotente loro due più cinque figli figli di una che appartengono a un'unione di fiamme poi c'è un'estrema potenza e quindi pericolo paura paura per chi per i cattivi ma i cattivi non esistono per una creazione fallata che sta crollando coppie così e famiglie così accelerano questo processo di crollo va bene abbiamo praticamente finito nel cinema però c'era una parte nascosta una parte di poltrone indietro coperta da un telo adesso alziamo il telo e a vedere il film ad assistere ci sono tutte le fiamme del mondo la sei la prima coppia che è venuta la coppia che ha Pupattolino dove appunto il lui della coppia mi ha fatto vedere quanto anche per lui sia complessa la sua vita precedente quindi come di fatto riesce ad empatizzare molto sia con Mara che con Luca ma mi fa vedere come siano riusciti loro due fiamme a creare questa unione a portarla avanti standing ovation oscar senza concorrenza già assegnato inevitabilmente a loro due assolutamente anche se non è un bel simbolo l'oscar l'oscar a forma di toroide detroide goes to Mara e Luca bene frequenza di Mara e di Luca Monica e poi Elena allora aspetta perché quella di Mara sta salendo 835 direi e Luca un pochetto meno ma siamo lì 799 sì 820 Mara e 798 Luca Elena consapevolezza Mara 215 Luca 205 Monica praticamente identici ma il caso in cui supera il 200 è raro in questo caso vabbè ps Monica adesso Mara mi viene 69 e lui 65 sì un po' più alte 78 74 vite Elena 927 Mara 1015 Luca Monica 1000 Luca e 906 Mara Monica cervello di Mara a cui Mara tiene tanto questo valore tiene tanto e io mi sento di confermare sai quello che era avvenuto nella sessione precedente 16 che tanto a lei vuole aumentarlo ma è già tanto e forse in questo caso è conviene aumentando insieme a Luca Elena vabbè un attimo scusami Monica lui a me viene 11 che tanto Elena si emana in questo momento 15 8 e Luca 11 8 ci sono ancora le interferenze no ci sono ancora c'è ancora progetto fuochi e fiamme infatti è rimasto fiamme progetto è saltato il fuoco cioè i problemi e la casa e cosa vuole lui l'ex cosa vuole la ex l'ex i bambini non vanno d'accordo tutto questo va bene messaggio di Mara a se stessa chi vuole ti scrivo l'immagine se quello che si vuole trasmettere è con la tua mano così stretta riusciremo a creare una sfera che vibra molto forte Monica è come se mi facessero mi hanno fatto notare questa cosa che la M che è l'iniziale di lei di fatto è costituita da due L se ne sono resi conto tutte e due questo legame è indissolubile queste sono le scelte migliori della nostra vita e mi fa vedere Mara che tipo dà una specie di carezza a sua mamma però allo stesso tempo se ne sta allontanando messaggio di Luca a se stesso non sono un facchino sono un uomo e realizzo me stesso quello che desidero i miei figli lo capiscono amo loro amo Mara Elena mi seguirò con cure e parsimonia ti seguirò con cure e parsimonia ok adesso ogni secondo l'anima di uno va nel corpo dell'altra e viceversa e poi nel secondo successivo torna nel proprio corpo mentre passano i secondi così che entrano nel corpo di uno e dell'altra si lasciano un messaggio di coppia Elena l'indissolubile si sente l'energia e l'immagine quindi l'indissolubilità è ormai chiara al chiaro di luce è indistinguibile e inseparabile Monica in questo movimento vorticoso che hai indicato no? di queste anime che passano da corpo a corpo vedo che loro dicono ora è chiaro io sono te e tu sei me va bene cinema che succede? bim bum bum eh chi vuole dai allora è come se ci fosse come se fossero tutti stupiti come se stessero guardando un film 3D e quindi percepiscono sono immersi in questa forza enorme della coppia fiamma si li vedo proprio immersi con questi occhiali si sentono proprio travolti quindi quasi non hanno da commentare perché è una percezione troppo forte Monica io li ho visti alzarsi in piedi e applaudire ho sentito la voce che bel finale e l'altra voce che a eco diceva ed è solo l'inizio si accingerei che i due ex a questo punto tutti e due si sono alzati se ne sono andati davvero Luca fa così ciao abbiamo finito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.